E questo ovviamente è il compito dei giocatori e soprattutto dell'allenatore da domani mattina, riagire. Effettivamente non c'è tempo da perdere, bisogna iniziare fin da subito. Il 4-3-3 con cui scendono in campo oggi, ricalca quella che è la più... E c'è la deviazione sopra la traversa. La traiettoria verso il centro, riflinge il pallone di pugno. Attenzione, pericolo! C'è arrivato il portiere, vi danno un gol sicuro, splendida parata in tuffo. Può far male qui. E c'è la conclusione. Occhio al tiro, non in gioco, attenzione!